Musica Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In arrivo negli aeroporti di Bariebrindisi un termoscan in grado di rilevare lo stato fisico termico dei viaggiatori. Saranno utilizzati insieme ai termometri ad infrarossi. Ad oggi nessun passeggero che potesse far pensare ad un caso sospetto di nuovo coronavirus, lo ha dichiarato questa mattina il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Sentiamo le sue parole. Sì, sono le indicazioni che il Ministero della Salute ci ha somministrato e noi stiamo seguendo i protocolli ferrei che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha distribuito in ogni paese del mondo. Qual è la situazione ad oggi? Assolutamente tranquilla in Italia. I casi che sono stati ormai dichiarati li conoscete tutti. In Puglia non ce n'è stato neanche uno. Sono tutti casi che sono arrivati alla unità operativa di malattie infettive perché i sintomi dichiarati erano sovrapponibili ai sintomi del coronavirus. Come funzionano tecnicamente i controlli in aeroporto? G-controlli funzionano come stanno funzionando in tutti gli aeroporti d'Italia e degli altri paesi del mondo. Con un termometro ad infrarossi si rileva la temperatura corporea, con un termoscan che sta per arrivare negli aeroporti di Bari e di Brindisi si rileva lo stato fisico termico. Nel caso in cui si dovesse verificare un rialzo febbrile su persone che arrivano da quei territori o che hanno avuto contatti con quei territori, quindi come abbiamo sempre detto fino ad oggi il diario di vita e il diario di viaggio sono fondamentali, per protocollo vengono trasferiti presso l'unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Bari. E l'aeroporto Carol Wetila di Bari ha anche una nuova postazione fissa del 118 con due ambulanze per pazienti obesi. Finalmente abbiamo attrezzato l'aeroporto con un dispositivo di sicurezza importante, peraltro in questa maniera, lo dico chiaro, abbiamo messo le ambulanze con questi dispositivi bariatrici di pronta disponibilità, quindi non c'è bisogno diciamo di una richiesta specifica ma fanno parte del normale circuito, le centrali di 118 sanno dove sono e dove sta l'ambulanza con queste particolari caratteristiche e questo ci consente di usarla a regime. Due ambulanze attrezzate per il soccorso e l'assistenza di persone gravemente obese da dieci giorni in servizio permanente all'aeroporto Carol Wetila di Bari. Una novità assoluta per la Puglia che alla pari di pochi aeroporti italiani si è dotata della nuova postazione 118 dell'Asl che dal primo febbraio ha già effettuato tre interventi specifici. Mezzi speciali dotati di una barella studiata per il sollevamento di pazienti bariatrici, non solo. Le ambulanze collegate alla centrale operativa del 118 sono pronte a soccorrere chiunque necessiti di intervento in aeroporto e di trasferimento urgente in ospedale. La presentazione del nuovo servizio in conferenza stampa, la presenza del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, dei vertici del Dipartimento Salute e dell'Asla insieme ai responsabili del 118. Questa è un'esperienza credo anche tra le prime in Italia. Di fatto noi avremo, abbiamo già dal primo febbraio una postazione 118, l'ambulanza qui in aeroporto, H24 dedicata sia alle necessità aeroportuali, quindi a eventuali emergenze che si vengono a creare in aeroporto, ed è un'ambulanza attrezzata per il trasporto bariatrico. Anche questa è una particolarità perché sono delle ambulanze molto speciali. Attentato dinamitardo la notte scorsa a Ruvo dove una bomba è stata fatta esplodere sotto l'auto privata di un militare del nucleo radiomobile dei Carabinieri in servizio ad Andrea. Per far esplodere l'auto una Fiat 16 parcheggiata sotto casa del militare è stato usato un ordigno artigianale con molta probabilità realizzato contro i tolo. L'esplosione ha distrutto completamente la vettura. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Una vera e propria fabbrica clandestina per la produzione di alcol completa di ogni apparecchiatura è perfettamente funzionante. È stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza ad Altamura. Le fiamme gialle che da diverse settimane controllavano i movimenti di un 38enne altamurano, già noto le forze dell'ordine, hanno effettuato un blitz nel capannone che questi era solito frequentare all'interno. I militari hanno trovato tutto l'occorrente per realizzare in modalità industriale bevande alcoliche. L'uomo che alla richiesta dei finanzieri non è stato in grado di fornire documenti, è stato così denunciato per fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche e sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa su tale attività. Reati che prevedono entrambi la reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a 7.700 euro. Cambiamo argomento a proda oggi in Aula Dalfino, in seconda convocazione la delibera sul piano casa, a spiegarci il perché e l'importanza e a illustrarne i dettagli il sindaco Antonio De Caro nella duplice veste di assessore all'urbanistica. È una delibera che adotta delle attività di salvaguardia da parte dell'amministrazione comunale nell'ambito del piano casa. Il piano casa sta dando la possibilità di recuperare degli immobili abbandonati da tempo, che erano destinati tempo fa a attività industriali e artigianali e che non avranno mai più quella funzione. possono essere demoliti e ricostruiti e destinate attività residenziali. Dobbiamo però stare attenti adesso che abbiamo già approvato diversi piani casa di piccole attività residenziali, villette, palazzine di due o tre piani. Arriva il momento in cui dobbiamo stare attenti ed evitare che magari si riducano le aree a servizi per la residenza. Perché se dovesse accadere questo, non diciamo di no al proponente, ma ovviamente va indennizzata l'amministrazione comunale con degli altri suoli che devono essere destinati ad attività, a servizi per la residenza. Immobili vincolati sono circa 700 quelli individuati dal comune? Sugli immobili vincolati che dovrebbero essere vincolati dalla sovrintendenza, non avendo mai la sovrintendenza esercitato quell'attività prevista dalla norma, ma ci siamo autolimitati e dal piano caso abbiamo tolto 700 immobili che ritenevamo essere degli immobili con una valenza. Dal punto di vista storico sono degli immobili pre-1954. Abbiamo chiesto alla sovrintendenza di esprimersi su quegli immobili, magari alcuni non hanno la valenza che ritenevamo noi, o di introdurne degli altri, però la sovrintendenza non ci ha mai risposto. A conclusione del primo anno dalla adesione di Aeroporti di Puglia al Global Compact delle Nazioni Unite, la più autorevole iniziativa internazionale sulla sostenibilità, il Presidente Tiziano Nessi ha voluto tracciare un primo breve bilancio del cammino intrapreso con un cenno ai programmi in corso nel 2020. Siamo convinti che un comportamento socialmente responsabile, ha detto il Presidente, pienamente orientato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, costituisca un valore imprescindibile per la nostra azienda. Nel 2020, quindi, il complessivo impegno di Aeroporti di Puglia includerà anche la realizzazione di tre nuovi progetti, l'installazione di fontanine storiche di acquedotto pugliese al servizio dell'utenza, quale elemento simbolico di sensibilizzazione al corretto consumo dell'acqua, la pianificazione di attività idonea ad attivare il processo di riciclaggio dei rifiuti e l'eliminazione totale all'interno dei punti vendita aeroportuali della plastica. Invece, in occasione dei primi tre anni di vita della Casa delle Bambine e dei Bambini, si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la presenza del Sindaco De Caro e dell'Assessore al Welfare Francesca Bottali con la consegna di un riconoscimento ai donatori che in questi anni hanno offerto un sostegno fondamentale alla struttura comunale, contribuendo alla costruzione di una comunità di riferimento e alla creazione e consolidamento del primo emporio boutique solidale della città di Bari a supporto della primissima infanzia. La Casa delle Bambine e dei Bambini è nata a febbraio del 2017 come sperimentazione pubblico-privata promossa dall'Assessorato al Welfare, gestita dalla TS e costituita tra il Consorzio e il Pendù, la cooperativa sociale Progetto Città e l'Apsfarina 080 Onlus con la collaborazione di un'ampia rete cittadina di partners locali. Il primo corteo storico partecipato da Palazzo di Città gettano le prime basi della festa più attesa dei baresi, la festa di San Nicola, che quest'anno vedrà la partecipazione di cinque municipi. Sarà il primo corteo storico di San Nicola partecipato, nel senso che un ruolo fondamentale sarà svolto dai cinque municipi. Da Palazzo di Città non perdono tempo, si comincia infatti a gettare le basi per l'edizione 2020 della festa più attesa dai baresi. Un'edizione particolarmente importante e per più motivi. Innanzitutto perché è la prima del secondo mandato di Antonio De Caro, da curare nei dettagli e da portare avanti mantenendo, se non superando, l'elevato standard assicurato nelle precedenti edizioni di Elisa Barucchieri. Non da ultimo perché si inserirà nel più ampio discorso della candidatura di Bari a Capitale Italiana della Cultura, incentrata proprio sulla figura e sulla storia del Santo di Mira. Giorni fa in giunta è stata approvata la prima delibera. Al fine di garantire una manifestazione che risponda alle più elevate aspettative, si legge infatti, occorre sin da ora definire alcuni elementi necessari per la sua realizzazione da parte della ripartizione culture, anche con l'eventuale coinvolgimento di esperti del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Tardo Antico dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro. Il bando sarà questa volta biennale, l'importo definito per le due edizioni 2020-2021, di 240 mila euro. Confermato il percorso lungo il quale si snoderà la tradizionale sfilata, confermata tra il tratto compreso tra Piazza Federico II di Svevia e la Piazza della Basilica di San Nicola, con svolta all'altezza del Teatro Margherita. Da Palazzo di Città però bocche cucitissime. I dettagli del bando saranno svelati nel corso di una conferenza stampa. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. A tutti un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che ancora vedrà sull'Europa centro-settentronale venti forti associati alla tempesta Ciaro o a quello che resta di lei. Invece alle nostre parti, situazione più tranquilla, latitudini mediterranei, pressione atmosferica tra l'altro in temporaneo aumento. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, qualche nuvola di passaggio ci sarà ancora al centro-sud. Ma in realtà nubi di poco conto, non porteranno precipitazioni significative. Controlliamo proprio le piogge previste sull'Italia. Poco o nulla da segnalare. Se vai qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine, soprattutto in Alto Adige. Ma per il resto, ripeto, situazione buona. Ci attende quindi un mercoledì, nel complesso di bel tempo un po' in tutta Italia. Ancora qualche annuvolamento, diciamo, sarà presente al centro-sud, dove soffriranno ancora venti di maestrale localmente sostenuti, ma in attenuazione e tra l'altro temperature che si perdono magari 1 o 2 gradi, ma rimangono sopra le medie del periodo. Con questo è tutto. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il Meteo è offerto da SGServiceSud.it